forse ragazzi in bocca al lupo almeno mi sta venendo la depressione a me che tu stai sconvitto come se mi avvice se ne fattono partitone a posto sei passato il sostituto il commissario ma mi pare che avevo letto qualcosa entrate in campo delle due compagini a Tessa Virtus Castelprendano con le maglie bianche con la divisa bianca con bordi giallorossi la Virtus qua c'è la Tessa direttore di gara di Stanislao ecco l'entrata in campo torneo il monello qua sul comunale di Atessa come anzidetto Virtus Castelprendano con la classica maglia la seconda ufficiale bianche con le maglie bianche con i risvolti giallorossi con il passato che ti stai ch'era che si Grazie a tutti. In buca al lupo, ragazzi buon divertimento.